Noi abbiamo sofferto per qualche anno la mancanza di questa via di comunicazione, di questo mezzo di trasporto marittimo per una serie di problemi. La regione ancora continua a fare chiacchiere, c'è stato un incontro l'altro giorno in cui c'è un palleggiarsi di responsabilità, ai problemi economici sorgono altri problemi che comunque mettono a repentaglio questa grande opportunità, quella di raggiungere il Cilento, via mare e soprattutto dal Cilento raggiungere altre località turistiche campane. Noi abbiamo risolto il problema, ci siamo attrezzati organizzandoci con un armatore privato, abbiamo raggiunto un accordo, quindi Agropoli al di là di quello che farà la regione, la provincia o gli altri avrà il suo collegamento con la costiera amalfitana, con Capri e con Napoli. Quindi facciano quello che vogliono ma noi poiché scottati dall'esperienza negativa degli anni passati ci siamo organizzati e quindi chi organizza da sé fa per tre.